Il covid irrompe nel ritiro del Bari a Londrone di Storo in Trentino, l'ultimo ciclo di tamponi il cui esito è stato comunicato. Mercoledì pomeriggio ha fatto registrare le positività di ben sette calciatori ai quali sommare un compagno di squadra già posto in isolamento dalla giornata di lunedì. Come spiegato dal Bari in una nota ufficiale i lievi sintomi segnalati da un calciatore hanno indotto la società ad evitare allo stesso di aggregarsi al gruppo in partenza domenica predisponendo un isolamento domiciliare a scopo preventivo. Un primo tampone di controllo effettuato sempre domenica sul tesserato ha confermato la negatività mentre il successivo tampone effettuato nel pomeriggio di lunedì ha rilevato la positività al covid-19 posto in quarantena dunque il calciatore. Il gruppo squadra successivamente è stato sottoposto a due cicli di tamponi tra lunedì e martedì che hanno evidenziato la positività di sette calciatori presenti in ritiro. Il timore è che il focolaio possa estendersi. Il club fa sapere di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo predisponendo per i positivi l'isolamento e per il gruppo squadra. Nuovi cicli di tamponi per monitorare l'evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario e la PSS di Trento. scontato anche l'annullamento del test del 23 luglio contro la settaurense prima amichevole della stagione.